Camposano si fa campus, inaugurato alla presenza di tantissimi sindaci il campus città del sapere polo dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, che sarà ubicato in via Paolino Barbato. Contestualmente all'insediamento dell'istituzione universitaria saranno subito messe a disposizione dei giovani della campagna 150 borse di studio per i corsi di laurea in economia, giurisprudenza e scienze della pubblica amministrazione. Soddisfatto il sindaco l'onorevole Francesco Barbato. Un passo in avanti per la scolarizzazione, per la formazione dei nostri giovani, ma soprattutto per cercare di avvicinare sempre più la scuola, l'università al mondo del lavoro, al mondo delle aziende, alle imprese, il job placement, con gli spin-off che possono farsi con questa università. Insomma, queste modalità, che sono le modalità del futuro, ci mettono in condizione di poter essere competitivi con il mondo. Ecco il sud che noi vogliamo rappresentare. Una possibilità straordinaria per la crescita del territorio, un'opportunità di inserimento lavorativo per i ragazzi. Questo è il pensiero del professor Nicolo Conti e del coordinatore del progetto Bruno Pinti, presidente Campus Città del Sapere Polo Unitelma, Sapienza di Napoli. Ci saranno anche delle borse di studio, abbiamo dei progetti in particolare mirati ai giovani, con una serie di vantaggi dal punto di vista economico. Credo che i nostri costi di iscrizione siano tra i più bassi in Italia e forse addirittura i più bassi in assoluto. Prospettivi innanzitutto di avvicinare 150 ragazzi che possono venire all'università senza pagare la retta accademica. questo è molto importante per avviare e dare possibilità ai ragazzi che non hanno possibilità di permettersi di studiare, di pagarsi la retta, di poterlo fare direttamente sul proprio territorio.